Siamo con Alessandro Veronese qui sul palco del Teatro Libro di Milano dove fino al 15 aprile va in scena questo spettacolo dedicato a Marco Pantani. Intanto perché hai deciso di dedicargli questo tuo spettacolo? Marco è stata una grande passione sin da quando ero più giovane, ragazzino. Sicuramente è stato l'atleta che mi ha emozionato di più di qualunque sport. Ho vissuto prima la sua caduta sportiva e umana con molta sofferenza e con un dolore infinito la sua morte che mi è giunta veramente come uno shock. Nello spettacolo peraltro c'è anche una scena in cui proprio racconto quello che stavo facendo quella sera perché io quella sera ce l'ho indelebile nella memoria. Da quella grande passione e dalla curiosità di capire che cosa realmente fosse successo è nata l'idea di scrivere questo spettacolo che adesso è in scena. Un spettacolo, ovviamente la vita di Pantani si presta molto ad un'opera teatrale però è uno spettacolo appunto in cui si vuole cercare anche di fare chiarezza su questa vicenda che purtroppo da tanti anni ha ancora tante ombre. Certo perché da subito, sin dai fatti di Madonna di Campiglio, sono state dette tante bugie su Marco Pantani. Adesso è appurato per esempio che a Madonna di Campiglio ci fu l'intervento della Camorra però per quanti anni abbiamo sentito dire invece che semplicemente Marco Pantani a Madonna di Campiglio si era dopato cosa che non era peraltro neanche vera prima perché non era un controllo antidoping ma al di là di questo e con la sua morte ancora di più. Lì le ombre e gli interrogativi rimasti senza risposta aumentano esponenzialmente non c'è niente di chiaro in quella notte, in quella morte eppure hanno cercato di seppellire subito l'inchiesta che è durata meno di due mesi, 55 giorni che è un tempo miserabile veramente anche per un furto di frutta, figuriamoci per la morte di Marco Pantani e poi hanno iniziato a raccontare bugie, 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 è clamorosa per esempio quello del medico legale che interviene nella stanza, dice di non aver visto sangue, ci sono immagini riprese dal video della polizia estratte da lì che ritraggono pozza di sangue di notevoli dimensioni assolutamente impossibili da non vedere allora ci si chiede perché, perché si cerca di nascondere qualcosa, che cosa si vuole nascondere ecco noi cerchiamo un po' di riflettere insieme al pubblico su tutti questi fatti Madonna di Campiglio e la sua morte, ponendo interrogativi poi ognuno darà le risposte che crede però c'è anche insomma tutto il ripercorrere la carriera bella di Marco Pantani sin dalla sua infanzia, dalle prime vittorie, poi fino ai trionfi, al giro e al tour e quindi ci sono anche molti momenti molto divertenti, molto emozionanti, gioiosi C'è tanta emozione nel tuo parere Qual è il tuo ricordo più bello legato a Marco Pantani? Il ricordo più bello legato a Marco Pantani paradossalmente è negli anni del suo declino L'ultima telecronaca che mostriamo, ne mostriamo tante, è quella di Auro Bulbarelli nel giro del 2003 con Pantani ad Europa che scattò a ripetizione, scattò tante volte nella tappa che portava alle cascate del Tocce non era più il grande Marco Pantani, era un atleta che arrivava da 4 anni di cocaina che arrivava da 4 anni di accanimento giudiziario, che aveva il morale e il fisico sotto i piedi ma in quella tappa in generale, in quel giro, lui per l'ultima volta dimostrò quello che avrebbe potuto dare al ciclismo Io quel giorno mi emozionai, mi emozionai tantissimo nel vederlo, anche poi perdere quella tappa perché arrivò soltanto quinto, sesto, non mi ricordo, però non la vinse, la vinse Simoni se non sbaglio però il suo cuore grande, la voglia di dimostrare chi era, anche dopo tutto quello che gli era accaduto ecco quello sì, mi emozionò tanto Pantani per tanti è stato un eroe sportivo e non per te lo è? Ma assolutamente sì, la sua vicenda ripercorre, a proposito di teatro, le tappe di quello che era l'eroe nelle tragedie greche con una ascesa e con una successiva caduta quindi sì, da questo punto di vista lo è senz'altro, la sua vicenda è assolutamente epica è una vicenda davvero epica, immortale, che sembra scritta in un buon romanzo sembra derivata da un buon film perché tutto quello che capita a Marco Pantani ma non soltanto negli anni buoni, anche prima quando ha incidenti pazzeschi eppure torna e torna a vincere, è tutto straordinariamente epico quindi sì, senz'altro lo considero un eroe Una vicenda che però non è ancora finita, cosa pensi che succederà nei prossimi anni? Io penso che la famiglia continuerà a combattere per avere la verità penso che sarà difficile far emergere tutta la verità forse ci vorranno ancora tanti anni certo è che probabilmente se la famiglia non avesse continuato questa sua battaglia questa vicenda sarebbe veramente chiusa da tanto tempo quindi tanto onore alla famiglia che ha stretto i denti contro tutto e contro tutti per cercare di avere delle risposte indipendentemente dal fatto che le loro ipotesi possano essere giuste o sbagliate ma il coraggio e la tenacia con cui perseguono questa cosa fa sì che tutto rimanga ancora aperto quindi finché è aperto, chissà, magari si riuscirà a sapere qualcosa